Andrea buonasera, 29 gennaio presentazione del catalogo Museo Civico Gaetano Filangieri venerdì 18.03 è vero? Verissimo, il Museo Filangieri ci ospiterà per la presentazione di questo volume tu sai che c'è un rapporto di fratellanza perché dieci anni prima che Alfredo e Pompeo mettessero su insieme le idee per il Museo Correale avevano dato una mano a Filangieri per organizzare il suo a Napoli, loro lo vogliono fare a Sorrento proprio per avere sul territorio e per coprire il territorio mi fa particolarmente piacere chi sono gli invitati, non che voglia sapere la lista degli invitati per poi regolarmi come si faceva ai balli del Settecento, ma insomma a chi avete invitato? Sarà una festa alla grande? Sarà una festa alla grande organizzata dal Museo Filangieri che ci teneva a svolgere questa presentazione lì anche perché un quadro del Filangieri è esposto nella mostra del Giovane Salvatore Rosa vedo che anche gli amici del Museo Filangieri si sono dati da fare e è una cosa eccezionale quando dobbiamo venire? il 29 gennaio alle 18.30 al Museo Civico Filangieri di Napoli al popolo dei Sorrentini gli diciamo che possono comodamente parcheggiare all'interno del porto sicuramente e quindi fare il tratto di strada che la salita via in bocca al lupo auguri grazie mille, vi aspettiamo ci sarà la signora curatrice? ci sarà la curatrice e anche altre persone che presenteranno il catalogo tra cui Stefano Causa è quella Lazzarono della Lazzarini? è la dottoressa Leonetti ma è quella Lazzarono della Lazzarini che si mette da lontane e ci tira minacce avremo il piacere di stringergli la mano? chi lo sa, chi lo sa a sorpresa a sorpresa come mai gioca questo ruolo a distanza? lei è un tiratore scelto, è un franco tiratore vaga per tutta Italia ah quindi è la super super arrivederci a venerdì 29 grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille